Vale la pena che noi quest'inverno andremo incontro alla stagflazione, andremo incontro alla recessione, che le nostre fabbriche si fermeranno, che andremo incontro alla disoccupazione? Vale la pena fare tutto questo? O bisogna prendere questo soggetto per le orecchie e dirgli adesso tu disarmi i gruppi neonazisti se ci riesci? Perché la domanda è se ci riesci, ti siedi a un tavolo di pace e fai la pace di corsa, l'Ucraina torna ad essere quello che era prima, ovvero uno Stato neutrale che trae i suoi benefici trattando con l'Europa per certe cose, con la Russia per altre cose, non entri nella Nato, punto e basta, e non se ne discute più. Questa è la soluzione semplice, questa è la soluzione reale, il resto sono chiacchiere, e torno a dire, parlare di moralità, e lo ribadisco per Cruciani e Parenzo, da parte nostra, è veramente un qualcosa di inconcepibile, di squallido e di criminale, perché noi abbiamo fatto cento volte quello che ha fatto la Russia adesso, Putin, le guerre, le ha finite, non le ha iniziate. Putin sta ponendo fine a una guerra civile che ha iniziato l'Ucraina, non l'ha iniziato la Russia, a bombardare l'aeroporto di Donetsk, a bombardare il palazzo dell'amministrazione di Lugansk, a massacrare la popolazione di Odessa, a fare un colpo di Stato neonazista nella capitale ucraina, non è stato Putin. Sono stati i battaglioni paramilitari finanziati dall'Occidente, dalla signora Victoria Nuland, che ha detto abbiamo speso 5 miliardi di dollari per restituire all'Ucraina il governo che si merita, che stava lì intercettata con il suo responsabile d'ambasciata, adesso non mi ricordo, e dicevano tizio lo mettiamo qui, Caio lo mettiamo lì, quest'altro lo mettiamo qui, e quando quello gli dice ma l'Europa avrà qualcosa da ridire? E lei gli ha risposto che l'Europa si fotta. Il signor George Soros ha pagato lui di tasca sua, adesso non mi ricordo se 80 mila dollari, per fare una campagna di casting per il nuovo governo ucraino, post-golpista, e ha preso gente che non era neanche ucraina, c'era un canadese, mi sembra, c'era un americano. Il governo è un governo fantoccio, ma come si fa a parlare di democrazia qui? Come si fa? Come si fa? Ce lo devono spiegare.